Tra le varie tendenze del gin, sicuramente l'abbinamento con la carne, Mauro di Bougin ci presenta questa bella esperienza. Sì, allora, piacere, io sono Mauro di Bougin, l'ideatore appunto di questo progetto. Bougin nasce in Piemonte, nella nostra macelleria con cucina, dove abbiamo pensato di creare un gin per gli abbinamenti con la carne, che si andasse ad abbinare bene a 360 gradi tra le botaniche del nostro gin e gli ingredienti per la cottura o per la manelatura, gli abbinamenti con la carne. Da lì è nato poi appunto il gin, i salumi al gin, quindi andiamo a massaggiare i salumi con il nostro gin e ci siamo poi spostati verso il mondo barbecue, quindi cotture, dove abbiamo ideato i primi e unici cocktail rub, dove andiamo, i rub appunto sono un mix di sale, erbe e spezie, dove andiamo a riprendere le note aromatiche dei cocktail. Ne abbiamo sei, dal gin tonic allo spritz al negroni, al cocktail martini, gin mule e abbiamo anche il mojito, quindi in tre utilizziamo appunto l'erbe del nostro gin, gli altri tre appunto non hanno il gin, ma ci piaceva l'idea di creare dei cocktail rub in grado di aiutare tutte le cotture. Il nome Bougin da dove arriva? Allora, il nome Bougin deriva appunto dal Piemonte, che Bougin vuol dire vitello in piemontese, dialetto piemontese e ci piaceva la connessione del Bougin con Bougin per creare un gin in abbinamento alle carni. Che riscontro avete avuto qui al Gin Day? Allora, qui abbiamo avuto un bel riscontro, persone molto interessate, piace molto il progetto, l'idea di abbinare un gin al cibo e di creare prodotti correlati a quello che è il gin in abbinamento al cibo per semplificare questo food pairing con il gin e il cibo. Anche all'estero avete mire di espansione? Allora, all'estero stiamo già collaborando in Inghilterra, diciamo che ci piacerebbe molto, non è facile come tutte le cose, è sempre più difficile, però ci stiamo provando.